L'unione, l'unione soprattutto della famiglia che si raduna intorno al popolare alla fine di una giornata, ma in cerchio anche quello che formano le comari, le signore, che prima di andare a lavare i panni e il fiume si fermano per parlare anche un po' di spintegolare. E allora ecco che le cerchie sono un po' una simbolizzazione popolare. Allora, vediamo questo carro che ci presentano gli avanti, il palo dei cerchi, gruppo sociologico mini, vice della città di Fondi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.